Avviare un tavolo di concertazione per valutare l'impatto del cambiamento climatico sulle produzioni agricole e sulle biodiversità agrarie. Se ne è parlato nel corso di un incontro organizzato a Castignano dallo Slow Food Marche, con la partecipazione della Regione Marche, dell'AMAP e di Slow Food Italia. Il dato di fatto è che il clima sta cambiando, con aumento eccessivo delle temperature e precipitazioni copiose e imprevedibili. Queste variazioni climatiche influiscono sulle produzioni agricole e mettono a rischio la sopravvivenza di quelle biodiversità che per secoli hanno caratterizzato l'economia e lo stile di vita dei territori delle Marche. Quello che noi mettiamo in campo spesso e diamo la possibilità di utilizzare è l'innovazione tecnologica, tutto quello che passa attraverso la possibilità di utilizzare nuovi sistemi anche a livello di protezione, e quindi dalla ricerca, l'innovazione è fondamentale, quindi anche il compito dell'AMAP, ex ASSAM da questo punto di vista. Cioè andare a ricercare, a studiare sempre più, innanzitutto, quelle caratteristiche che rendano ancora più resistenti, proprio da un punto di vista anche, diciamo, biologico, le varie biodiversità. E poi utilizzare invece nei sistemi di coltivazione tutte quelle, diciamo, tecnologie moderne che servono a proteggere un po' da questi rovesci climatici che sappiamo creano veramente tanti, tanti problemi. L'anice verde di Castignano, il fagiolo laverino di Fiuminata, il carciofo di Montelupone, la mela rosa dei Sibillini o il mosciolo di Portonovo, sono solo alcuni dei prodotti che sono stati oggetto del dibattito e che vivono queste criticità legate al cambiamento climatico. E ci sembrava utile ed opportuno, diciamo, avere un contesto più ampio insieme alle istituzioni politiche e anche ai produttori per cominciare un dialogo, un discorso che poi nel tempo si diventasse strutturato e strutturale per tentare da un lato, chiaramente, di fotografare la situazione che c'è adesso, ma dall'altro anche di cogliere le opportunità e anche, diciamo, portare avanti alcune strategie che consentano di tutelare questo patrimonio, diciamo, paesaggistico, agrario, ma anche culturale, perché alla fine questi cibi sono identificativi dei territori e creano anche una coesione all'interno delle comunità che le esprimono. Ecco che l'Agenzia regionale metterà sul campo tutte le proprie migliori risorse ed energie per tutelare quelle che sono, insomma, l'elemento identitario della nostra regione, le biodiversità. E AMAP lo farà, naturalmente, mettendo sul campo tutte quelle che sono le sue tecnologie e migliori strumentazioni, perché ricordiamo a chi ci ascolta che la regione Marche, attraverso AMAP, segue tutto il ragionamento sull'agromedio e quindi è una roadmap per tutto il settore, tutto il comparto, e lo fa naturalmente relazionandosi con le migliori agenzie nazionali e con tutta la filiera universitaria.